Segno X esterno, uguali sorrisi per la capolista che ferma a 11 la serie di vittorie consecutive ma avanza in classifica. Nell'anticipo di campionato infatti il notaresco strappa un punto a Montegiorgio, partita senza reti, ma festeggia la sconfitta interna della Re Canatese superata la domenica a domicilio da una pirotecnica vastese che si impone per quattro reti a due. Copertina dedicata proprio agli aragonesi protagonisti dell'impresa di giornata con i due fratelli esposito Vittorio e Francesco che mettono a segno uno storico poker con due reti a testa chapeau. Benil Pineto che vince 2-1 a Civitanova contro il Porto Sant'Elpidio e continua la sua rincorsa verso le zone alte della classifica. Crisi piena invece per il Chieti che con Pino di Meo in panchina al suo debutto cede all'Ortona contro il Campobasso sconfitta di misura che pesa come un macigno Alessandro il marcatore dei Molisani, l'unico. Corroborante il poker del Giulianova che Alfadini supera il vasto Girardi per 4-1 e così respira in classifica. Trasferta Mara per l'Avezzano che non riporta punti da Agnone col disco rosso di misura che contribuisce alle ansie di una classifica sempre barcollante.